Proprio perché è un periodo favorevole storicamente. Abbiamo gli investimenti che arrivano, abbiamo i progetti, dei progetti meravigliosi, importantissimi, che ci daranno un futuro stupendo finalmente per la Sicilia e che ci farà raggiungere, non dico il nord, forse anche qualcosina di più, forse anche i paesi del nord. Perciò non dobbiamo mollare, dobbiamo essere forti ed è un periodo che c'è una gran bella squadra anche istituzionale, il sindaco, tutti quanti e dobbiamo mettercela tutta.